Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di martedì 11 febbraio 2020, questa è Fano TV sul canale 17 diamo un'occhiata ai giornali e diamo un'occhiata questa mattina anche alle notizie dell'ultima ora che stanno arrivando in particolare dalla provincia di Pesaro Urbino dove c'è un incendio, lo vedremo tra poco, un vasto incendio che sta interessando uno dei monti qua vicino, vicino inteso come nostra sede quindi Fano, il monte della Mattera dove sono andati a fuoco alcuni ripetitori ma avremo anche qualche immagine, ma attenzione al vento forte, c'è questa tempesta che sta mettendo in ginocchio l'Europa, la tempesta Ciara, qualche limbo di questa tempesta sta attraversando, sta interessando anche la nostra zona con venti fortissimi che stanno causando problemi alla viabilità, ci sono molti alberi che sono caduti in queste ore, quindi fate davvero molta attenzione se state per uscire di casa, ma con ordine, oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Lourdes, salutiamo anche tutti gli ammalati, le persone che stanno poco bene, che ci ascoltano, ci guardano ogni giorno, anche coloro che ci guardano dagli ospedali, dalle case di riposo, un saluto, 7.11 questo è il sole che sorge e 17.33 invece l'orario in cui il sole oggi tramonterà. Andiamo a vedere velocemente il sito trebimeteo.com con il quale abbiamo un rapporto di collaborazione e dunque la prima pagina del portale che indica, come vedete, una settimana, quella che abbiamo appena iniziato abbastanza dinamica, molto ventosa e mite su gran parte dell'Italia. Poi la tempesta sociale che, come abbiamo detto, mette in ginocchio mezza Europa, la vedete colorata di viola. Mentre la protezione civile delle Marche nel suo bollettino quotidiano per oggi prevede appunto questi venti ancora nella prima parte della giornata, quindi questa mattina vento fresco con rafiche fino a tempesta nelle zone montane e collinari e burrasca forte nelle zone basso-collinari e costiere. Nel pomeriggio oggi questa intensità diminuirà fino a vento moderato e vento forte nelle zone collinarie e montane, dunque dobbiamo ancora attendere qualche ora e poi questo vento così forte cesserà e diminuirà di intensità. Per il resto non ci sono precipitazioni, non c'è pioggia, soltanto domani nell'entroterra nel Monte Feltro è prevista qualche pioggia isolata, brevi deboli piovaschi soprattutto domani pomeriggio. Le temperature sono in diminuzione nei valori massimi, un po' di vento teso in rotazione da nord lungo la costa nel corso del pomeriggio. Per giovedì le previsioni prevedono c'è uno seno poco nuvoloso con temperature in diminuzione soprattutto la notte, ecco dunque le gelate soprattutto in collina nel settore settentrionale della regione e venti meridionali rinforzo dal mare nel tardo pomeriggio di giovedì. Attenzione, sempre giovedì alle gelate nelle zone interne e nei fondovalle. Tempo stabile anche per il resto della settimana. Allora adesso andiamo a vedere le notizie dell'ultima ora, come vi dicevo abbiamo un vasto incendio e qui andiamo a vedere le fotografie, un vasto incendio che sta interessando il Monte della Matera tra i comuni di Montbaroccio e Colli al Metauro. Le fiamme hanno coinvolto i ripetitori delle antenne, le fiamme le vedete qua in fondo, qui la macchina, la camionetta dei vigili del fuoco che sono sul posto insieme ai carabinieri e ai tecnici della provincia. In queste ore sono state chiuse delle strade, questa è un'altra fotografia che riguarda l'incendio. Chiaramente ancora queste foto sono state scattate poco dopo le sei di questa mattina, quindi ancora è buio. Vigili del fuoco sempre sul posto, dicevo la strada in particolare che è chiusa è quella che collega Cartoceto a Montbaroccio. Poi c'è un'altra strada invece, qui la fotografia che ci ha inviato il nostro reporter pubblicata, e non siamo riusciti a girarla in tempi brevi perché tutto è accaduto in questi ultimi minuti prima di andare in onda. Qui è un pino, è un pino che ha causato la chiusura di una strada, che è la strada Sant'Anna a Cartoceto e che è chiusa per appunto la caduta di questo grosso albero che sta ostruendo completamente il passaggio e tutta la viabilità. Di conseguenza questa strada, strada Sant'Anna a Cartoceto, è chiusa per la caduta di questo pino. Ora queste sono le notizie che riguardano il maltempo, ma naturalmente siamo già pronti per seguire e darvi conto di quello che sta succedendo anche attraverso il nostro gruppo Facebook Reporter di strada. È un gruppo chiuso, quindi dovete chiedere l'ammissione all'interno di questo gruppo, ovviamente gratuita, e lì potete vedere le segnalazioni e soprattutto potete anche voi segnalare, così come potete segnalare con il nostro numero che conoscete bene, che magari adesso la regia appena avrà l'occasione potrà mandare in sovraimpressione. Eccolo qua, il numero 338 4968 250, che è sempre valido per inviare le segnalazioni anche con WhatsApp. Cominciamo alla lettura dei giornali. Il Corriere Adriatico, morto Giancarlo Morbidelli, il papà delle moto moderni, aveva 86 anni ed era malato. Unanime il cordoglio, domani i funerali. A centropagina il ladro seriale non si ferma più, maggiori controlli, le vittime chiedono di poter coinvolgere i quartieri. Ancora furti nella notte appesero ai danni di esercizi commerciali. E poi il carnevale con il biglietto d'ingresso non c'è, non c'è stato un salto di qualità. Deludono le allegorie pianificate con le risorse. Valorizzare i carristi era l'obiettivo perlomeno della Gian Mariola. A centropagina sul carlino di Pesero la laurea di famiglia. Mamma e cinque figli, dottore insieme, presto tocca al sesto. Questa è la foto che si riferisce alla laurea e alla discussione della tesi nella giornata di ieri, qui con il rettore Vilberto Stocchi. E poi Giancarlo Morbidelli, che è morto, aveva 85 anni, malato da tempo. Addio al genio, ha trasformato la sua passione per le moto in leggenda. Dall'entroterra, CD al biglietto, spintoni e sputi a due controllori, botte al padre rapper in manette a terre roveresche. Poi un ragazzino che denuncia a Pesero, sono stato aggredito e rapinato da sei stranieri in piazzale Matterotti. E sotto la politica, 5 stelle, centrodestra sull'Aventino, sempre a Pesero. Mentre a Mercatello sul Metauro, campane troppo rumorose, stop ai rintocchi di notte. Pagine interne, il mondo giovanile piange la morte di Guagno. DJ musicista, Andrea Guagneli era diventato popolare dai ragazzi perché dettava con la musica le serate dalla Cira in Viale Trieste a Pesero. Travolto dal treno a 33 anni, il dolore degli amici che dicono adesso amarti è stato semplice. Sotto ladri nazioni in via Milazzo, ripulite la pizzeria Tony e la pasticceria vicina. È successo tutto nella notte tra sabato e domenica. Ancora titoli, il mondo della musica è sotto shock, Guagno non c'è più, addio Angelo. Messaggi da tutta Italia per la tragica scomparsa di Andrea Guagneli, 33 anni, batterista dei Brothers Hello e DJ. Le ultime ore al Circolo Mengaroni, i tempi al Black Marmalade e un sogno, ideare un grande festival a Pesero. La morte di questo ragazzo che avrebbe compiuto 33 anni il 13 di febbraio, quindi dopo domani. La notizia avvenuta nella notte tra sabato e domenica lungo i binari che tagliano la campagna del Boncio a pochi chilometri dalla stazione dei treni di Pesero. Si è sparsa questa notizia a macchia d'olio e ha toccato il mondo della musica nazionale. Su Facebook e sui cellulari dei suoi amici sono arrivati messaggi da tutta Italia, commoventi, affettuosi, increduli. Ed è una notizia che appunto ieri ha iniziato a fare subito il giro del web. Poi Ivan Cottini, un'altra standing ovation in diretta televisiva. Il modello e ballerino è stato ospite di Rai 1 e di Eleonora Daniele. Addio Giancarlo Morbidelli, il corriere, il geniale pioniere delle moto, l'imprenditore scomparso da 86 anni, il cordoglio della città e funerali domani alle 15 nella chiesa del Porto. È morto Morbidelli, scrive il resto del Carlino, una leggenda della meccanica. Ha messo in bacheca sei titoli ridati, la Honda lo ammirava. Lascia oltre alla moglie Augusta il figlio Gianni, ex pilota della Ferrari e poi della Minardi. E Letizia era ricoverato all'ospedale Santa Croce di Fano. Ferrari chiamava spesso Enzo Ferrari, erano diventati amici. Walter Magrini, che è amico di infanzia di Morbidelli e poi collaboratore al museo, ricorda alcuni episodi che hanno contrassegnato la storia del geniaccio. E poi le pagine, sempre le pagine interne di Pesaro, del Corriere Adriatico, sono stato rapinato in Piazzale Matteotti, dice questo ragazzino di 16 anni, intorno alle 19.15 di domenica sera in Piazzale Matteotti, un ragazzo di 16 anni, pesarese, studente, sta per salire sul suo scooter per far ritorno a casa. Poi, a un certo punto, dice, appena salito in sella, sono stato avvicinato da sei ragazzi di presunta origine straniera nordafricana. Parlavano bene italiano, gli hanno chiesto se avesse da cambiare dei soldi. Lui avrebbe risposto che non ne aveva, ma il gruppo non sarebbe rimasto affatto contento del tiniego. Così uno di loro si sarebbe messo dietro lo scooter e gli altri gli avrebbero chiesto di far vedere il portafoglio e di verificare la veridicità di quanto aveva detto. Sull'autos invece strattoni e sputi ai controllori su un autobus di linea. Il giovane era senza biglietto. La denuncia di questa nuova aggressione ai danni dei controllori e del sindacato. Il tutto è avvenuto sulla linea 45, intorno alle 14, sabato scorso, a Bronzo di Mercatale, una zona vicino a Carpegna, dove due controllori che stavano svolgendo il proprio lavoro si sono battuti in questo ragazzo che era sprovvisto del biglietto e al quale, quando gli hanno chiesto di fornire le generalità, ha dato in escandescenza con spintoni, invettive, sputi a uno di questi controllori. Anche il resto del Carlino pubblica la notizia questa mattina di questo sedicenne che sarebbe stato rapinato in piazzale Matteotti. Ha raccontato ai carabinieri questa aggressione e il furto che ha subito ad opera di sei nordafricani. Adesso c'è comunque l'indagine in corso. Foto di gruppo invece con il rettore Wilberto Stocchi di Martina Ulzer insieme ai figli Elia, Michelle, Daniela, Sara, Cristina. Sono i figli con i quali si è laureata insieme. Ieri hanno discusso la tesi e commuove tutti. Stavo per morire, dice lei, anche perché aveva fotografi, giornalisti, telecamere, tutte puntate, mentre lei discuteva seduta su quella sede davanti alla commissione. Insomma, discuteva la sua tesi. Ieri il gran giorno per la famiglia Bardelli, guidata da mamma Martina, ero spacciata dopo un intervento, salvata poi dalla fede. I voti? Anche una lode tra i figli. C'è stata una persona, uno di loro, che ha avuto appunto la lode. I raid dei ladri invece non si fermano, razzie seriali in un bar e in alcune pizzerie. Ancora furti nel fine settimana a Pesaro, presi di mira più locali tra il centro e l'immediata periferia. Trafugati i soldi dei fondocassa, l'importo dei danni è ben più salato del bottino, come purtroppo spesso accade. Poi sotto, colpi di vento, cadono due lucernari, studenti in fuga. Siamo a Cagli, gli alunni del Celli costretti a ripiegare in aule ritenute più sicure dai professori. A Fano la cliente non se ne va, lite furiosa e l'arrivo della polizia. La proprietaria di un bed and breakfast a bellocchi di Fano costretta a chiamare gli agenti per convincere una donna a lasciare la struttura. Le forze dell'ordine si sono intrattenute diverso tempo per riportare la calma. E sotto, carnevale polemico tra La Ruota e Greta, il PD chiede rispetto per i luoghi storici, mentre Carla Luzzi se la prende con il carro di Mauro Chiappa e dice che questa non è satira. Mentre l'artista, Mauro Chiappa, appunto, taglia corto e dice che la satira non va troppo spiegata, ognuno ne dà l'interpretazione che vuole. Tutto questo però mi fa pensare, dice Mauro Chiappa. Nel mio carro c'era un messaggio, quello di mettere in discussione un personaggio come Greta. E negli altri, cioè negli altri carri, l'impressione, continuo ancora Chiappa, è che siano tecnicamente realizzati benissimo ma poco emozionanti. Forse la carnevalesca, al momento della scelta dei bozzetti, dovrebbe fare maggiore attenzione. E direi che Mauro Chiappa ha perfettamente ragione. Il rifugio fanese dei profughi istriani, seduta monografica ieri del Consiglio Comunale con gli studenti in occasione del giorno del ricordo. Lo storico Simonelli ricorda il massacro per mano delle milizie di Tito e le traversie dei Budinis. Dunque emozione di Tarsi e Dana di Fano, città ideale per chiedere una lapide. E poi ancora racconti, tre giorni su uno scoglio per uno scafo fantasma, i drammi raccontati nel libro curato da Carloni e rievocati in un incontro che si è tenuto nell'ex Cinema Gonfalo di Fano. Si parla della tassa Tari, stanno arrivando queste cartelle soprattutto ai commercianti, agli esercenti ed è bufera. 1.191 sono gli avvisi, un milione da recuperare. Ma l'assessore Sara Cucchiarini respinge le accuse e dice che non sono cartelle a getto, si è lavorato con serietà, previsti piani di rateizzazione e un fondo specifico. La guerra allo smog, PM10, le polveri sottili giù, i termosifoni anche perché è caldo giustamente, il Comune abbassa di due gradi la temperatura negli uffici, il Comune di Fano, uffici pubblici e nelle scuole per combattere appunto le polveri sottili. Domani a Metauriglia i Cinque Stelle presentano la proposta per liberare le strade dallo smog, le strade fanesi dallo smog. La mia infanzia da esule in fuga da Lussino, il racconto di Giuliana Paola Budinis in occasione del giorno del ricordo, di fronte ad una platea di studenti e amministratori. Mentre l'iniziativa di una famiglia istriana a Fano spunta un mazzo di fiori in via Norma Cossetto. Ma non c'è un cippo o qualcosa che possa ricordare questo evento. E dunque la signora Stefania Giunta, la vedete nella fotografia qui pubblicata questa mattina, che cosa ha fatto? Si è dovuta accontentare di appendere un piccolo mazzo di fiori al cartello che appunto ricorda Norma Cossetto. Sotto invece serve una lapide per quei morti, depositata una mozione dei consiglieri di Fano, città ideale e poi anche qui il racconto di come è andata la presentazione del libro, scritto da Mirko Carloni e presentato nella chiesa del Gonfalone, gremita di pubblico. Ancora cronaca. Calci e pugni al padre, rapper in manette, un 32enne di Terre Roveresche, ammesso di aver sbagliato ma di aver agito per esasperazione nei confronti del genitore. L'ultima volta è stata quella più violenta, ricorda Elisabetta Rossi nel giornale questa mattina. Calci e pugni contro il padre fino a fratturargli una costola e a provocargli il colpo della frusta, arracchide cervicale, mentre gli gridava t'ammazzo, t'ammazzo. Spinte schiaffoni alla mamma che cercava invece di fermare quella furia senza freni e quando i due genitori sono riusciti a fuggire ha afferrato dei vasi e li ha lanciati, praticamente li ha lanciati addosso per fortuna senza colpirli. Ad aggredire padre e madre, mercoledì scorso a Terre Roveresche, è stato un uomo di 32 anni, rapper per passione ed è quella l'ennesima aggressione, finita questa volta in una denuncia ai carabinieri e con l'arresto del 32enne per maltrattamenti e lesioni sulla base di un'ordinanza spiccata dalla GIP di Pesaro. E poi un ventenne fanese che è stato rinviato a giudizio, lui picchia la mamma, lei risponde con il coltello, mezza famiglia dunque finisce in tribunale. E ancora da Urbino, decollata la missione che svelerà il sole, due ricercatori ducali nel team europeo, la fisica Katia Grimani e il tecnico informatico Michele Fabi, hanno ruoli fondamentali per le ricerche della sonda. Eccoli qua, Katia, professoressa di fisica sperimentale, Michele Fabi, tecnico informatico. Sotto anche qui Bardelli, la famiglia dei record, sei lauree insieme, nello stesso giorno sono diventati dottori, la madre e cinque figli. L'idea della fusione con Petriano la più possibile, dice Fedrigucci, che lancia una proposta, questo non significa che si debba pensare ad una sola soluzione. mentre dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico il biglietto del Carnevale di Fano, che sapete è già il secondo anno che è stato introdotto, quindi c'è un'entrata importante in più nelle casse dell'ente carnevalesca, ma qualcuno probabilmente si aspettava di vedere qualcosa di spettacolare. In realtà questo spettacolo non c'è stato domenica ed è un peccato perché uno paga il biglietto, teoricamente, poi è vero che come al cinema uno va a vedere un film sulla base di una trama, ma può dire soltanto alla fine se è stato bello, se gli è piaciuto oppure no, il film che è appena andato a vedere. Con il Carnevale più o meno potrebbe essere la stessa cosa, qualcuno può dire i carri sono bellissimi, qualcun altro può dire i carri erano un po' così così. Quindi, allora, le allegorie comunque deludono, deludono, questo è il titolo, l'equivoco di Greta, la gestione di Giammarioli non c'entra l'obiettivo di qualificare il lavoro dei maestri carristi e dunque il risultato è un po' quello che manca, ecco, diciamo, manca il carro emozionante. Veglione, invece, Corrafattori, che è stata nostra ospite al processo del Carnevale l'altra sera, Corrafattori interviene sul manifesto che pubblicizza il veglione di Carnevale manifesto di cattivo gusto. Il Carnevale di Fano ha dedicato la scorsa edizione alle donne, quest'anno invece all'ecologia, contro la violenza di genere, eccetera, eccetera, mentre nel 2020 è tornato al solito cliché della donna seminuda. Come dire, l'anno scorso tutto per la donna, ma quest'anno, cambiato pagina, la donna torna essere oggetto del desiderio ed eccola qua, un po' mezza nuda. Questo è il veglione che, secondo Corrafattori, è di cattivo gusto. Metauriglia, la rinascita, siamo a Fano sempre, ci sarà la rinascita col declassamento della Statale, con l'obiettivo di spostare il traffico di attraversamento nella strada di Mezzo e ci sarà anche un incontro domani alle 21 al Circolo Albatros 77, sempre di Metauriglia, dove i consiglieri comunali, come abbiamo detto, illustreranno il progetto per decongestionare il traffico cittadino, quindi magari migliorare anche la qualità dell'aria. Parcheggi, lo sferisterio in cambio dei controviali. In discussione lo spostamento della sosta a pagamento tra i due siti del centro città. A vuoto l'ultimo incontro tra associazioni di categoria e il comune di Fano, la decisione dunque è stata congelata. A Fossombrone, la rocca malatestiana nell'abbandono, il sindaco, recupero non è una priorità. Aumentano le segnalazioni di degrado per il raro e prezioso esempio di architettura fortificata. Era stato formulato il progetto di un museo delle armi antiche di forte potenzialità turistica. Poi il disservizio, sempre a Fossombrone, delle poste. In arrivo dalla Russia, Pacco sbaglia strada nelle Marche. La protesta di un utente per il nuovo disservizio. Diversi casi sono stati segnalati anche in precedenza. Mentre a Mondolfo la farmacia di via Ferrari diventa un'altra avvertenza. Il comune la vuole acquisire da Fano, deliberato ricorso al Tar. Per gestire la transizione, i due enti locali avevano firmato un accordo nel 2015. Si parla della farmacia che prima era sotto Fano, adesso sotto Mondolfo. Un poster per descrivere il cammino per la pace. Emma Marconi, vincitrice del concorso organizzato da Lions Pergola Valcesano. Consiglio, e torniamo sulle pagine di Pesaro del Corriere Adriatico. Consiglio, il centrodestra sbatte la porta e i Cinque Stelle devono lasciare l'opposizione. Tensione dopo l'ingresso in giunta della Franco e Lucci. Il sindaco Ricci dice Marche Multiservizi, Delle Noci non è incompatibile. Via Mancini, solo un pino su dieci è da recidere. L'Università di Firenze non ha autorizzato ulteriori abbattimenti. Mira il Fiore, patto tra Comune e Renco. Riqualificheremo il parco attrezzato. L'imprenditore Giovanni Gasparini dice vogliamo ripensare all'area giochi valorizzandola e rendendola più fruibile. Mentre il vento mobilita i vigili del fuoco. Ci sono state anche auto danneggiate sempre nel Comune di Pesaro. Tante le chiamate, oltre 15, solo nel pomeriggio alla Polizia Locale di Pian del Bruscolo. Andiamo ancora avanti. Questa è la pagina del Carlino. Liste d'attesa. Ora la verifica in tempo reale. Nel sito della Regione Marche alla voce disponibilità CUP si potrà vedere dove e quando ci sono posti per le visite e gli esami. L'opportunità è relativa alle 69 prestazioni principali, quelle monitorate. Dunque da oggi con un semplice clic ogni cittadino potrà verificare tutti i giorni a partire dalle ore 8 del mattino quali sono e dove sono i posti disponibili per visite ed esami sanitari. Scegliendo anticipatamente la struttura dove ci sono maggiori possibilità di ottenere un appuntamento in tempi dovuti prima di prenotare. Basta collegarsi al sito della Regione Marche e quindi anche se cercate su Google Regione Marche Tempi di Attesa ecco dovrebbe darvi l'indirizzo giusto. E poi sul coronavirus ecco il decalogo per baristi, ristoratori e negozianti evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simili influenzali porre attenzione all'igiene delle superfici detergersi frequentemente le mani sono queste le principali indicazioni contenute in questa direttiva del Ministero ma lo diceva anche mia nonna quindi non era... Ecco la nuova palestra a prova di Nevone e questa è la palestra che è stata inaugurata a Montemaggiore dal sindaco di Colle al Metauro con amministratore e quant'altro Stefano Guzzi ad otto anni dal crollo del tetto sotto il peso della Contrebianca cioè della neve pronto l'impianto gestito dalla società di volley locale ed è davvero un bel impianto Guzzi dice già ricavati 30 posti auto altri 60 in fase di realizzazione a fianco della struttura di cui 25 sono già disponibili andiamo a vedere la pagina di Senigallia ospedale, furti nelle auto in sosta numerosi i colpi messi a segno oltre dati vandalici con i parcheggiatori questo non succedeva e poi l'ultima pagina troppo rumore campane silenziate di notte a Mercatello sul Metauro parte la segnalazione di un residente all'ARPAM sospeso dunque il secolare rintocco mi pare di capire da quello che ho letto che ogni quarto d'ora suonasse anche di notte Fernanda Sacchi che è il sindaco di questo bellissimo borgo che è mercatore sul Metauro dice da cittadina che ama il suo paese mi dispiace molto penso che siamo arrivati ad una soglia di sopportazione bassissima e questo dovremmo interrogarci tutti quanti praticamente da sabato scorso l'orologio del campanile di Mercatello ha cessato di suonare alle 9 di sera e per riprendere alle 7 del mattino perché era troppo il rumore è vero non so quale sia l'utilizzo non so quale sia come dire se sia utile sentire ogni quarto d'ora di notte la campana che suona evidentemente un tempo non si sentiva nemmeno la campana pur essendo forte perché una volta si andava a lavorare nei campi e dunque quando si metteva la testa sul cuscino ci si addormentava come dei sassi e praticamente fino al giorno dopo la campana chi se la sentiva? nessuno ora che invece nei campi non ci lavora più nessuno o quasi più nessuno il sonno ce l'abbiamo ormai tutti molto più leggero e quindi anche un rintocchino da fastidio ci fermiamo qui e ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci a presto